Il più bello è questo, regalare un sorriso, contribuire, quindi sono molto grato e onorato di essere qui oggi, che bravo come sempre al precedente Luca Napoli, che è sempre attento a queste cose. Diciamo che non dovrebbe essere solo a Natale il momento di regalare un sorriso, lo facciamo spesso tutto l'anno questa iniziativa di Luca e lo Star Sicilia, quindi oggi è solo il completamento, non è perché è Natale, ma perché è giusto contribuire sempre. È una giornata ricca di emozioni, è una giornata e un'iniziativa che credo valga la pena fare per i riscontri e per le risposte che abbiamo avuto. È stata straordinaria la visita dove abbiamo acquisito ancora di più una consapevolezza diversa da chi oggi con piccoli gesti riesce a far sorridere chi ha più bisogno, in questo caso i bambini, e quindi i bambini di fronte a questo la sensibilità e la volontà di essere presenti quest'oggi è stata bella, positiva e piacevole.